Sono tre i punti principali. Da una parte abbiamo, Monza non è una città abituata a gestire turisti o visitatori, quindi dobbiamo attrezzarci. Abbiamo fatto un progetto che si chiama Monza True Motion, che proprio nelle parole stesse ha quello che vogliamo trasmettere, quello che è il filo che lega la visita a Monza, che è avere delle emozioni, poter portare delle emozioni e poterci portare a casa. E raccontarle a chi conosciamo. È un progetto impegnativo che fa leva su qualche asse fondamentale, che è il fatto di illustrare alcuni aspetti fondamentali di quella che è la nostra realtà di attrattività, che è un percorso reale. Monza è una città di regine, c'è la regina Teodolinda, c'è stata la regina Maria Teresa d'Austria, e cito anche di passaggio una figura importante femminile che è stata la monaca di Monza, perché non era una regina ma ha avuto una vita molto particolare, molto intensa e anche molto moderna da certi punti di vista. Dall'altra parte, un altro delle nostre caratteristiche è poter vivere bene, poter stare bene insieme, in questo caso i percorsi di gastronomia, piuttosto che di visita del parco, della villa reale, dei giardini, sono anch'essi una modalità di fruizione della città. L'altro riprende un po' una caratteristica, anche questa emozionale, che l'abbiamo chiamata di differenti velocità. Nel parco possiamo andare a passeggiare, possiamo correre se siamo dei runner, facciamo i percorsi sportivi nuovi che diceva l'amico Silvano, ma abbiamo anche la Formula 1, quindi questa capacità di emozioni diverse è uno degli elementi di attrattività. Tutto ciò è legato da un'offerta, da una piattaforma tecnologica molto moderna, ne parlerò dopo per quanto riguarda la realtà aumentata, e dal rinforzo di quelle che sono le infrastrutture, quindi rinforziamo gli infopoint, facciamo una documentazione, dei documenti per la città che hanno un'immagine integrata, facciamo un nuovo portale di promozione, operiamo per quanto riguarda l'arredo urbano, noterete via Cesare Battisti nella parte centrale, una fioritura, e dico un'ultima cosa di oggi, proprio per la formazione, perché sono poi le persone che fanno un po' la differenza, abbiamo iniziato i corsi di formazione per la polizia urbana, proprio su come è fatta la città, come le posso visitare e come supportare i visitatori. Proprio per dare poi quella che è la continuità in questo tipo di azione, abbiamo fatto insieme a Camera di Commercio, abbiamo costituito una società 50% di loro, che è Monza Crea Valore, che proprio questo ha l'obiettivo di promuovere, di creare i rapporti con i tour operator, di presentare l'offerta locale anche di ospitalità e non solo ai tour operator, e su questo stiamo avendo dei buoni risultati per quanto riguarda alcune nazioni vicine. L'ultimo punto, e anche questo si rifà alla nostra storia, abbiamo presentato un progetto che è stato approvato per costituire un itinerario culturale europeo, che era chiamato le vie del Longobardi, proprio facendo leva sul fatto che è un elemento fondamentale della nostra storia. Gli itinerari culturali europei sono i più famosi, sono quelli di Santiago di Compostero, le vie francigene, e quindi stiamo costruendolo con altre quattro nazioni in Europa. È un modo diverso anche questo di vedere il visitatore, come colui che va in un territorio perché è attirato da questo tipo di offerta, questa attrattività perché vuole e conosce, ma in realtà è anche questo un modo per presentare il resto dell'offerta del territorio, quindi tutti gli altri aspetti. Ed è un modo per attrarre un turismo, come si può dire, non dico sostenibile, ma curioso di vedere un territorio. Ed è anche questo uno dei possibili elementi di sviluppo. Ultimissimo punto, il processo per il quale abbiamo costruito tutto questo è stato molto, dico partecipato perché sono state coinvolte tutte le realtà economiche presenti sul territorio, dalla Camera di Commercio, la Confindustria, gli artigiani, i commercianti, le realtà culturali, quindi il consorzio piuttosto che la fondazione del Museo del Tesoro del Duomo e una serie di altre associazioni che hanno operato. Ultimissimo, i fondi, tutto questo che è un investimento non indifferente perché è in due anni superiore a milioni di euro, non ha gravato sulle spalle dei cittadini perché abbiamo utilizzato pienamente, come abbiamo dichiarato quando l'abbiamo sostituita, l'imposto di soggiorno, l'abbiamo fatta in modo misurato, è un quarto di quella che è Milano mediamente e abbiamo destinato integralmente, come fatto, come si può dire, nel patto costitutivo con gli albergatori che sono una categoria principalmente inesata, l'abbiamo devoluta sostanzialmente allo sviluppo e su questa base abbiamo potuto raddoppiare l'importo disponibile in virtù di un bando regionale che ci permetteva di sviluppare di questo.